Eccoci qui pronti ad affrontare le ultime due proprietà delle potenze. Queste proprietà riguardano potenze che questa volta hanno lo stesso esponente e quindi una base diversa. La quarta proprietà riguarda quindi il prodotto, cioè la moltiplicazione di due potenze o più potenze con ugual esponente. La proprietà afferma che il prodotto di due o più potenze con uguale esponente è ancora una potenza che ha per base il prodotto delle basi e per esponente lo stesso esponente. Infine l'ultima, il quoziente, cioè la divisione tra due o più potenze con uguale esponente. La proprietà afferma che il quoziente di due o più potenze con uguale esponente è ancora una potenza che ha per base il quoziente delle basi e per esponente lo stesso esponente. Andiamo a fare qualche esercizio. Eccoci qui con gli esempi. 10 alla terza per 2 alla terza. Come vedete ho messo in giallo in evidenza il fatto che abbiano lo stesso esponente che rimane uguale. Quindi l'esponente della mia potenza risultato rimarrà 3. Dopodiché eseguo la moltiplicazione. 10 per 2 la base sarà 20. Nello stesso modo, 2 alla quinta per 3 alla quinta mantengo lo stesso esponente e moltiplico le basi. 2 per 3, 6. La stessa cosa vale nel caso della divisione. 10 all'ottava diviso 5 all'ottava mantengo l'esponente 8 ed eseguo la divisione 10 diviso 5 che fa 2. 20 alla quarta diviso 4 alla quarta mantengo l'esponente 4, eseguo il quoziente e la divisione 20 diviso 4 fa 5. Ma anche se moltiplicazione e divisione sono più di una e sono collegate, manterrò sempre l'esponente 3. Ma ricordo che queste moltiplicazioni e divisioni devono essere eseguite nell'ordine, che non può essere modificato. Quindi 10 per 2 fa 20, 20 diviso 5 fa 4. Quindi 4 alla terza. E per concludere questo ottimo schema riassuntivo. Prima di tutto, le proprietà delle potenze sono valide qualunque sia la base. La base può essere un numero intero e per adesso noi lavoreremo solo con basi appartenenti all'insieme n. Ma alla fine dell'anno la base potrà essere una frazione e in terza media la base potrà essere addirittura un numero negativo. Quindi valgono per tutti i tipi di numeri che rappresentino le base. Le potenze sono 5, 3 per base uguale esponente diverso, 1, 2 e 3, prodotto di potenze con ugual base, quoziente di potenze con ugual base, potenza di potenza. E 2 per prodotto con potenze che hanno base diversa ed esponente uguale. Il prodotto di due potenze con uguale esponente e il quoziente di due potenze con uguale esponente. Quindi facciamo attenzione. Le proprietà ci aiutano nel calcolo ma richiedono condizioni. Ossia la proprietà si usano solo per moltiplicazioni e divisioni, moltiplicazioni, divisioni, moltiplicazioni e divisioni, e mai per addizione o sottrazione tra potenze. E adesso non vi resta che fare esercizi e saper esprimere e ripetere correttamente il contenuto delle 5 proprietà dopo averle capite. Alla prossima. Ciao.